giugno 2024 corso alfa l1 ferrara di montebaldo qua abbiamo nicola dice un po tu come andata cosa ti è sembrato esperienza molto bella sfidante bella intensa ma decisamente valsa la pena ok e come valuti un po insomma quello che ti è stato trasferito a livello di conoscenze con potenze che è arrivato tutto non ti è arrivato nulla sì sì no devo dire molto positivo le lezioni molto interessanti diciamo il giusto compromesso fra il giusto livello di approfondimento ma anche il giusto livello di diciamo non prendersi troppo sul serio e anche per te allora ti domando cosa ti porti a casa in una parola in due insomma in una frase direi il fatto di essere stato portato fuori dalla mia zona di comfort ed essere stato messo in difficoltà che è una cosa che diciamo nella vita di tutti i giorni magari non capita una cosa per me estremamente positiva pollice alzato quindi bella lì grazie grazie a te